Per l'eccellenza dell'informazione digitale Salve a tutti The winner is Takeda Invito il team a sedere qui su pari Janssen e Sigma Tau Sì 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 Lo diamo a Anna Bene Buongiorno a tutti Grazie intanto per l'opportunità Sono Fonzo Gentile e Dottore Medio del Partito d'Italia E sono in rappresentanza dei venti di questo team E questo team è in rappresentanza dei tanti colleghi Accetto la nostra attenzione, accetto l'attenzione del sistema sanitario nazionale Quindi grazie al nome del team Takeda E grazie a tutti Perché lui possa diventare sempre di più un aiuto e un sostegno al paziente informandolo Diamo anche dei supporti diagnostici, dei consigli dal formulare